L'errore di rivale d'amore prima dello stacco, Rialo al comando, l'errore di rivale d'amore, la squalifica per rivale d'amore. Rialo al comando, in seconda posizione Roberto Grip, terzo all'esterno Rolex Va, piegata Rialo che fa andatura avanti a Roberto Grip, 13-8 in lancio, terzo all'esterno Rolex Va, così all'uscita dalla piegata con Rialo all'avanguardia, i suoi fianchi Roberto Grip, Roberto Grip che insiste, quarto iniziale 29-6 davanti alle tribune. Roberto Grip che scavalca Rialo, terzo all'argo, il numero 6 Rolex Va, poi ancora in corda Rose Sarob con in fuori raggio d'elite, quindi Rick del Duomo, Royal Flash CR, poi Regina del Bar e Romeo Desi. 44-4 per i 600, Roberto Grip in vantaggio, a largo rimane Rolex Va, Roberto Grip, Rolex Va, Rialo in corda, raggio d'elite all'esterno, 35-4, 1-0-0-1 per gli 800 alla media di 15-1. Sempre in vantaggio Roberto Grip, premia i suoi bianchi, Rolex Va e così si arriva al completamento del giro in 1-15-2. Sempre passato all'avanguardia Rolex Va, in seconda posizione raggio d'elite, poi Rick del Duomo. Raggio d'elite in progressione a lato di Rolex Va, poi Rick del Duomo, quindi Regina del Bar, poi Romeo Desi. 29-7 è il terzo quarto, ingresso in addirittura con raggio d'elite che insiste nell'attacco a Rolex Va. Rolex Va a raggio d'elite, poi al centropista lo scatto di Rick del Duomo. Rick del Duomo che sta passando nel finale, Rick del Duomo, su Regina del Bar, raggio d'elite Rolex Va e Romeo Desi, successo di Rick del Duomo, allevato dall'azienda agricola Duomo, di proprietà della scuderia Lainati, per il training di Davide Nudi e la guida di Roberto Andrechetti. Totalizzatore 2,87. Grazie a tutti.